Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Eliminazione di barriere architettoniche, e il coinvolgimento delle persone con disabilità negli interventi pubblici. Sono questi i punti emersi dall'incontro svoltosi martedì scorso tra l'amministrazione comunale ed i membri dell'osservatorio cittadino sulle condizioni delle persone con disabilità. Vediamo il servizio. Sono Fulvio Maximo Sergio, vivo a Cava da 38 anni almeno. Io vorrei mettere un pochino l'accento sulla fruizione dei servizi a Cava. Servizi intendo praticamente negozi dove acquistare merce, i bar, le pizzerie eccetera. Un disabile, o meglio una persona con disabilità che è molto più chiara come cosa. Io volessi per esempio andare, entrare in un bar a Cava, a parte pochissimi ho una grossa difficoltà. Antonio Vicedomini, siccome cammina sempre in carrozzina, sono un autonome, guido, però per parcheggiare come trovo difficoltà in tutte le parti e cammino in carrozzina. Purtroppo non posso soffrire di nessun marciapietro perché se so dove si sa e dove si entra, però all'uscita non ci sta l'uscita. Allora, meno vado sempre in mezzo alla strada. Io mi chiamo Luigi Taiani, sono di Raito, però la maggior parte vive a Cava e quindi tra l'ente pubblico e l'ospedale le difficoltà pure ci sono state parecchie. Per esempio, all'ospedale hanno aumentato i posti per disabili, però, visti che hanno fatto quelle famose strisce secondo loro per disabili, ma non c'è la possibilità di aprire la porta e di scendere una carrozzina. Poi a San Pietro c'è stato un centro proprio per disabili, per l'adattamento e compagni abel. Hanno messo che dall'esterno si può bussare il campanello all'altezza di un disabili. Dall'interno non si può più uscire perché l'interruttore sta circa un metro e cinquante. Oggetto di molteplici tavoli di confronto, cavallo di battaglia di campagne politiche di qualsiasi colore e perenne argomento di discussione legislativa, politica e sociale. Della disabilità se ne parla tanto, ma quanti di noi, i cosiddetti normodotati, si soffermano veramente a pensare alle esigenze e alle problematiche che ogni giorno le persone affette da disabilità devono affrontare? E quali sono gli aspetti da migliorare in città? Lo abbiamo chiesto a Fulvio, Antonino e Luigi, cittadini che ogni giorno devono combattere per una propria indipendenza ed autonomia. Ho avuto per tanti anni un negozio di abbigliamento. Cioè, la cosa principale è che, pur non essendo all'epoca persona con disabilità, mi sono trovato a porvi questo problema. Perché io vedevo le badanti che entravano nel negozio e guardavano, vedevano, eccetera. E praticamente, chi doveva essere assistito che stava con un povero disgraziato davanti al negozio a aspettare che praticamente chi l'assisteva facesse i suoi comodi. E quindi, ponendomi questo problema, ho cercato in qualche maniera di superare queste barriere architettoniche mettendo delle rampe oppure facendo dei gradini molto bassi. Cosa che io adesso, io sono da tre anni che sto in carrozzella, mi sto accorgendo che nella maggior parte dei locali non c'è. Ma io mi faccio tutte le strade già da via Financiere, io parcheggio a via Financiere o via Marconi che devo andare in piazza oppure alla Terri, via Lamberti, via Vittorio Veneto. Faccio tutto in mezzo alle strade perché tutti i marciapiedi a Vittorio Veneto non ci sta un marciapiede che è accessibile. Una volta che siamo usciti dal centro di cave la carrozzina non si potrebbe più adoperare. Le salite sono enorme. i famosi San Pietrini e le bughe che ci stanno qui, la volta che si esce dal centro di cave diventa un problema grosso. Se poi andiamo a vetro o andiamo a raide peggio ancora. La dignità di vivere una quotidianità che non deve essere ostacolata da barriere architettoniche e disattenzione da parte di chi può cambiare le cose. Questa è la mission dell'osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità di Cava dei Tirreni che ha più volte chiesto ed ottenuto incontri e tavoli di confronto con le istituzioni. L'ultima riunione con gli organi competenti si è svolta a martedì scorso presso il palazzo di città di Cava dei Tirreni. Siamo arrivati a due conclusioni forti. Il sindaco ha ribadito due cose essenziali. Uno, noi abbiamo in osservatorio un architetto che ha l'esperienza personale del figlio con disabilità motoria. Essendo una persona molto attenta e intelligente ha preparato un progetto molto importante su tutto quello che è la realtà sia del borgo cittadino di Cava sia delle frazioni per un concetto globale di vivibilità e di gestibilità delle situazioni. e quindi il sindaco ha immediatamente chiesto che venga fatto un tavolo di lavoro tra l'architetto dell'osservatorio l'assessore ai lavori pubblici l'assessore all'urbanistica e il dirigente dei lavori pubblici in modo da potersi confrontare. E poi i nostri esperti tra virgolette della commissione barriere dell'osservatorio dovrebbero essere il sindaco ha chiesto che vengano assolutamente coinvolti dai lavori pubblici comunali per quanto riguarda qualsiasi tipo di intervento. Nuovo vertice in prefettura a Salerno per organizzare nei dettagli la bonifica dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto in un fondo agricolo a battipaglia. Vediamo. Un nuovo vertice in prefettura a Salerno per continuare a definire dei dettagli l'operazione di bonifica dell'ordigno bellico di provenienza anglosassone e quindi risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto all'interno di un fondo agricolo a battipaglia nelle scorse settimane durante una normale operazione di scavo all'interno di un'azienda. La novità più importante resa nota dagli addetti ai lavori è che l'ordigno presentando un'innesco spoletta particolare di tipo a scoppio ritardato che non ne consente il trasferimento ad altra sede sarà bonificato sul posto. A preoccupare tra virgolette è soprattutto il piano di evacuazione considerando che a rigore di normativa bisognerà tenere distante dal luogo qualsiasi presenza nel raggio di 1,6 km e nei dintorni dell'area delimitata della cosiddetta zona rossa ricadono numerose infrastrutture in primis l'ospedale Santa Maria della Speranza con il passaggio di autostrade e ferrovia oltre a centinaia di abitazioni private l'operazione di bonifica sarà condotta ovviamente di domenica in prima mattinata e nei prossimi giorni si conoscerà anche la data ma non si dovrebbe andare oltre i mesi di maggio con battipaglia che si ritroverà a rivivere una condizione già affrontata con l'ultimo episodio in ordine di tempo che conduce al 2014 all'evacuazione di 1.641 abitanti quando un ordigno bellico di 226 kg sempre risalente al secondo conflitto mondiale fu ritrovato in località Taverna durante la realizzazione dell'istituto comprensivo Sandro Penna il 23 novembre del 2014 l'operazione di messa in sicurezza fu portata a termine senza difficoltà la violenza domestica strumenti di tutela questo è il titolo del convegno a cura dell'associazione La Cittadella che si è tenuto ieri al palazzo di città di Cava dei Tirreni vediamo il servizio si è tenuto ieri mercoledì 3 aprile nell'aula consigliare del palazzo di città metelliano il convegno dal titolo la violenza domestica strumenti di tutela organizzato dall'associazione giuristi campani La Cittadella presieduta dal febbraio scorso dall'avvocato Paolo Germani la scelta di fare un convegno sulla violenza domestica e sugli strumenti di tutela è quella di portare a conoscenza l'intera collettività di quelle che sono le forme di violenza domestica ogni cittadino non solo gli operatori del diritto quali avvocati magistrati o anche altre persone che intervengono in quest'ambito quali operatori delle forze dell'ordine devono essere messi a conoscenza devono avere cognizione piena di quelle che sono le forme di violenza molti pensano che la forma di violenza si manifesti esclusivamente con la violenza fisica che può essere perpetrata soprattutto nei confronti di una donna ma ci sono molte forme di violenza sconosciute e sottaciute quale potrebbe essere la violenza morale la violenza psicologica esercitata nei confronti di un soggetto debole o anche la violenza economica tra l'altro gli strumenti di tutela è parte del titolo in quanto ci sono tanti strumenti di tutela nell'ordinamento italiano previsti sia dal diritto penale che dal diritto civile quindi tutti devono conoscere le possibilità che l'ordinamento mette a disposizione per poter reagire non solo l'ordinamento italiano ma anche la normativa sovranazionale prevede norme che tutelano le vittime che subiscono violenza domestica l'interessante incontro è stato moderato dall'avvocato Antonella Garofalo che ha partecipato all'iniziativa anche in veste di assessore del comune metelliano per me è veramente un piacere avere questa duplice veste come assessore alle politiche sociali e anche come avvocato e quindi come moderatore è sicuramente un'iniziativa degna di plauso non è mai abbastanza quanto si parli della violenza domestica della violenza di genere della violenza sui minori e la cittadella ha avuto il merito di organizzare un evento un convegno con dei relatori veramente illustri il fulcro del convegno sono stati gli interventi dei relatori Gustavo Danise GIP presso il tribunale di Nocere Inferiore è entrato nel dettaglio degli strumenti di tutela previsti dal diritto penale mentre Emilia Natale avvocato civilista ha esaminato gli strumenti di tutela previsti dal diritto civile una buona legislazione di contrasto esiste su questo non c'è problema bisogna comunque sia sempre sensibilizzare attraverso i mass media diversi di ipotesi di modo da consentire a tutte le persone a tutte le donne che sono vittime di violenza di poter adire diamo quelle strutture diamo opportune per poter cercare di ottenere tutela e non rimanere nell'anonimato non rimanere nel silenzio ma denunciare io mi occuperò delle tutele in campo civilistico per quella che è una realtà triste e drammatica della violenza endofamiliare il legislatore già nel 2001 si è preoccupato di intervenire e ancora oggi rimaneggia la legislazione speciale attingendo a quelli che sono purtroppo gli ultimi casi di cronaca continuativi ai noi per inserire nuove norme nuove disposizioni nel codice civile quantunque si intervenga però io ritengo che il problema sia culturale non soltanto normativo presente tra gli altri anche il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di nocere inferiore Aniello Cosimato comunque un plauso lo dico da presidente del consiglio dell'ordine va a questa associazione alla cittadella al suo presidente e a tutti i soci ma anche dobbiamo dire in sinergia con l'amministrazione comunale e con l'attività che svolge la collega Garofalo A 110 anni dalla morte di Gio Petrosino questa mattina si è tenuto presso l'istituto Santa Caterina da Siena a Mendola di Salerno un incontro per riflettere sui temi della legalità Coinvolgere le giovani generazioni già particolarmente sensibili al rispetto alla difesa della legalità a far sì che siano trascinatori di pace in questa società già piena di tensioni e di contraddittorietà prevenire la corruzione riflettere sui temi della legalità in occasione dei 110 anni dalla morte di Gio Petrosino si è tenuta si è tenuta questa mattina presso l'aula magna dell'istituto Santa Caterina da Siena a Mendola di Salerno l'incontro la legalità per la pace organizzato dal comitato provinciale dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra in collaborazione con l'istituto Santa Caterina a Mendola la giornata ispirata al 110 anniversario della nascita del detective italo-americano Gio Petrosino paladino della lotta contro la criminalità in America quando la legalità viene difesa e mantenuta con il proprio sacrificio ha dichiarato il presidente del comitato provinciale dell'associazione famiglie cadute dispersi in guerra di Salerno Giuseppe Paladino la pace sarà una sicura conseguenza e renderà tutti liberi e coscienti di essere uomini di grande interesse e coinvolgimento per gli studenti il racconto del pronipote del detective di origini salernitane Nino Melito Petrosino di alcuni episodi emblematici della vita professionale e familiare di Gio Petrosino il rude ma integerrimo poliziotto italo-americano fu assassinato in Sicilia da alcuni sicari della mafia allora definita mano nera che vedevano minacciata la loro attività di espansione criminale verso l'altro continente tanti ricordi da trasmettere ai giovani una ricca pagina di storia beh diciamo pure che fu aiutato da tre cose la conoscenza della lingua italiana era partita a 13 anni da Padula da quella casa dove sono nato pure io e quella casa oggi è l'unica casa museo in Italia attenzione dedicata a un esponente delle forze dell'ordine quindi le sue intuizioni scopre questa organizzazione criminale oltre che a combatterla crea prima al mondo la tecnica dei travestimenti e chi si era sognato si mette una parrucca baffi finti si finge ubriaca entrava in quei locali da lui ritenuti frequentati da criminali ingalliti doveva ascoltare con le sue orecce temeva che i collaboratori ne travisassero le parole a New York forma la prima squadra di poliziotti e pretende che i componenti conoscessero la lingua italiana fu accontentato forma la prima squadra di artificieri la chiamò Bombsqued pensate l'efficacia del metodo da lui creato che la polizia americana lo porta avanti per 70 anni fino al 1969 e poi voglio far notare la riconoscenza degli americani oggi 2019 la polizia americana a New York in osseguio al suo fondatore non ha cambiato il nome si chiama ancora Bombsqued infatti io faccio diversi meeting nello Stato e nella metropoli di New York proprio con la Bombsqued e poi parliamo dell'unico poliziotto sul pianeta Terra ad avere assicurato alla giustizia circa 20.000 criminali sono queste le ragioni che rendono forte questa pagina di storia parte domani dentro la politica attiva l'iniziativa organizzata dal movimento Cava Attiva a sostegno di un sistema di valori primari che sono alla base del cittadino attivo sette temi sviscerati da sette protagonisti della vita socio-politica del nostro territorio l'associazione socio-culturale Movimento Cava Attiva organizza dentro la politica attiva una serie di incontri di formazione rivolti alla cittadinanza e soprattutto ai giovani con l'intento di fornire gli strumenti cognitivi utili a formare cittadini attivi luogo dell'evento la sala consigliare del palazzo di città la casa di tutti i cittadini il programma che partirà domani venerdì 5 aprile con il professore Marco Galdi già sindaco di Cava di Tidreni tratterà il tema la politica perché per proseguire con gli appuntamenti del 10 aprile 19 aprile 10 maggio 24 maggio 31 maggio 7 giugno l'ingresso è totalmente gratuito la comunità di Dragonea si prepara a vivere le celebrazioni in onore di San Vincenzo Ferreri che segneranno anche l'inizio dell'anno speciale dedicato al santo in occasione del sesto centenario della morte vediamo la comunità di Dragonea in festa domani venerdì 5 aprile per le celebrazioni in onore di San Vincenzo Ferreri la festa liturgica di quest'anno segnerà anche l'inizio dell'anno speciale dedicato al santo poiché ricorre l'anniversario del sesto centenario del Dio Natalis l'amministratore parrocchiale nonché rettore del santuario Don Cilio Emanuele Daniello ai nostri microfoni ha illustrato le celebrazioni in programma domani 5 aprile anticipate questa sera vigilia della festa dalla solenne adorazione eucaristica alle ore 20 il 5 aprile 2019 ricorrono i 600 anni dalla nascita al cielo di San Vincenzo Ferreri e noi come comunità parrocchiale di Dragonea dove c'è presente il santuario dedicato a San Vincenzo Ferreri abbiamo pensato di dedicare un anno al nostro santo protettore con le celebrazioni che iniziano proprio il giorno 5 in particolar modo con la messa preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Orazio Sorricelli Arcivescovo di Amalficava dei Tirreni alle ore 18 e 30 le altre sante messe del giorno 5 presso il santuario di San Vincenzo sono alle ore 7 del mattino 9 e 30 10 e 30 11 e 30 e alle ore 17 alle ore 16 essendo venerdì ci sarà la pia pratica della via crucis sempre all'interno del complesso del santuario di San Vincenzo in Dragonea come dicevo abbiamo come comunità parrocchiale dedicato un anno al nostro santo protettore e quest'anno decorrerà dal 5 aprile 2019 al 5 aprile 2020 e per concessione del nostro arcivescovo ci sarà anche l'opportunità di pregare per ottenere l'indulgenza in questo anno in particolar modo partecipando alla Santa Messa ogni 5 del mese che verrà celebrata al santuario in orario serale e ogni 5 del mese avremo con noi delle comunità ospiti che faranno festa insieme a noi nell'arco di questo anno non solo momenti di fede e spiritualità ma spazio anche all'allegria e al divertimento le celebrazioni in onore di San Vincenzo non sono solamente a carattere religioso abbiamo anche momenti di ricreatività è proprio sabato 6 aprile alle ore 20 grazie all'associazione culturale e teatrale Saranno Vietresi verrà inscenato il Gran Galà del Musical uno spettacolo musicale dove ci sono all'interno raccolte tutte le colonne sonore dei musical più famosi e vi attendiamo quindi al santuario di San Vincenzo il giorno 5 per le celebrazioni delle sante messe e il giorno 6 per questo spettacolo a cura dell'associazione Saranno Vietresi e per consentire ai fedeli di raggiungere più agevolmente il santuario in occasione della festa di San Vincenzo le corse urbane di Basitalia anziché terminare in località Padovani proseguiranno fino al piazzale della chiesa Serie C prosegue la preparazione della cavese in vista della gara di potenza fine del silenzio stampa in casa metelliana cordoglio di molti tifosi bianco-blu per l'ex dirigente del città della cava Emidio Galise vediamo una delle partite più complicate che aspettano la cavese è proprio quella di domenica prossima che si giocherà allo stadio Alfredo Viviani di Potenza contro la locale formazione che in classifica è al quinto posto dietro a Juve Stabia Trapani Catanzaro e Catania e nel 2019 finora non ha mai perso nelle gare di campionato si giocherà per la 34esima giornata della Serie C Girone C e i metelliani la stanno preparando in un clima disteso abbastanza rasserenato rispetto a quelle che erano state le reazioni del doporende prima di tutto non ci sono stati drammi in casa metelliana dopo la sconfitta casalinga battita col Catanzaro sia perché i risultati dagli altri campi non hanno peggiorato la situazione della cavese sia perché la società non ha creduto opportuno mandare nuovamente la squadra in ritiro e ha decretato anche la fine del silenzio stampa con tutte le assenze che avevano i metelliani non sono mancati sul piano dell'impegno ma al di là di questi aspetti che comunque possono far parte del calcio pur con tutte le opinioni che ne conseguono da parte dei tifosi a potenza potrebbe esserci una cavese più completa nella propria linea mediana detto dei rientri probabili di Tumbarello e di Favasuli ci sono anche Lia e Castagna che hanno dato segnali di miglioramento da un punto di vista atletico rispetto alla scorsa settimana terapie per Rosafio Migliorini e Pugliese i quali costituiscono ancora un punto interrogativo relativamente al minutaggio che potranno avere intanto sono stati diversi da parte dei tifosi metelliani i messaggi di cordoglio per Emidio Galise scomparso due giorni fa sposato con Teresa Risalvio era un noto tifoso aquilotto ed era stato anche uno dei dirigenti del Città della Cava e poi della Procavese nei primi anni della rifondazione della società calcistica metelliana dall'agosto 2011 fino alla cessione del titolo a Salvatore Manna Galise era stato anche vicino a Franco Troiano per l'organizzazione di vari concerti musicali da parte della redazione di RTC Quartarete la più sentita vicinanza alla famiglia Galise altre di C ieri si è giocata la gara di recupero della nonna giornata nel girone C la viterbese Castrense è andata a vincere sul campo del Catania per 1-0 con gol di Zonev alla mezz'ora del primo tempo su palla ferma i siciliani a loro volta hanno anche segnato un gol con Brodice ma il gol è stato annullato ingiustamente dall'arbitro così i laziali vanno al sesto posto a 44 punti 4 lunghezze in più della cavese che è undicesima alle porte della zona playoff intanto si ha notizia che il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha penalizzato due società per irregolarità varie al Bisceglie sono stati sottratti tre punti al Rieti ne sono stati invece decurtati due per questa ragione il Bisceglie scende a quota 26 punti resta terz'ultimo però è sempre più nel mirino della Paganese che di punti da recuperare ne ha 12 dopo la riunione del GOS tenutasi questa mattina è arrivato il via libera ai tifosi della Cavese per la trasferta di domenica a Potenza biglietti in vendita da oggi pomeriggio fino alle 19 di sabato i residenti nella provincia di Salerno potranno acquistare il biglietto solo per il settore ospiti e si potrà raggiungere lo stadio esclusivamente con mezzi collettivi è riuscita l'impresa degli ultraciclisti cavesi Michele Petrone e Sergio Punzi che tra sabato 30 marzo e domenica 31 hanno completato l'Everesting lanciando al tempo stesso un messaggio per la tutela dell'ambiente vediamo l'impresa è riuscita ci sono volute ben 28 ore e 34 minuti ma alla fine i due ultraciclisti cavesi Michele Petrone e Sergio Punzi hanno portato a compimento l'Everesting eguagliando l'altezza del monte più alto del mondo e dal contempo hanno lanciato un importante segnale alle comunità di Cava dei Tirreni e Salerno per unirle nella comune battaglia per la tutela dell'ambiente partiti alle 11 di sabato mattina ai piedi della strada provinciale 129 i due atleti a bordo delle rispettive mountain bike hanno percorso per ben 29 volte la salita che conduce al Castello Arechi poi alla frazione Croce di Cava dei Tirreni e senza alcuna interruzione toccando pian piano i 1138 metri di Monte Finestra poi 4810 metri del Monte Bianco e ancora i 5.895 metri del Kilimanjaro hanno tenuto duro fino all'ultimo metro di dislivello positivo e alle 17.34 di domenica sono stati accolti dal tripudio di un nutrito gruppo di sostenitori al traguardo degli 8.848 metri per di più durante ciascuna delle salite i due atleti hanno raccolto oggetti in plastica tra i tanti presenti lungo la strada al fine di depositarli negli appositi cassonetti della raccolta differenziata posizionati nella piazzetta di Croce grazie al supporto del comune metelliano che ha patrocinato l'iniziativa devo dire che ad ogni salita c'è sempre un amico che ci fa compagnia e ci dà una mano abbiamo raccolto credo già 20 kg di plastica abbiamo raccolto anche molte bottiglie di vetro è una bella giornata quindi questo connubio sport e attivismo per l'ambiente veramente divertente e fa bene anche all'autostima ci diceva che avete raccolto plastica e non solo perché si trova un po' di tutto lungo queste strade sì lungo la strada c'è un po' di tutto è disseminata insomma con qualsiasi tipo di materiale sia plastica che carta cotton fioc quei fazzolettini imbevuti insomma a centinaia quindi ci stiamo creando anche il problema di raccogliere anche qui anche se è molto faticoso perché svolazzano e quindi diventa più complicato però insomma con un po' di buon come dire un buon motivo per raccogliere questa cosa si riesce a fare tranquillamente siamo spinti da un ottimo motivo Michele Petrone che è un vulcano dopo aver organizzato il Vertical è stato uno dei promotori dell'organizzazione Vertical anche del Cava Green Valley oggi si sta incominando in un'altra sfida cercando di coniugare sport e ambiente come dicevi tu prima diciamo questa non è solo una sfida sportiva ma anche un modo per trasferire soprattutto alle giovani generazioni questo sentimento verso l'ambiente è una cosa quindi che sembra banale ma non lo è intanto perché comunque quelle cose quindi anche le grandi iniziative partono anche con poche persone quindi ben venga questa attività e saranno supportate sempre dall'assessore e dall'amministratore comunale l'evento è stato organizzato in collaborazione con il CSI Cava e con la parrocchia di Santa Croce che nel recente passato ha curato l'organizzazione di Ripuliamo Croce giornate di attivismo per l'ambiente ed è stata l'occasione per sensibilizzare anche i bambini della locale comunità e prima di chiudere il nostro telegiornale una notizia che ci è appena arrivata in redazione la protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle 18 di oggi in particolare si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio e temporale in esaurimento al primo mattino si segnalano inoltre possibili raffiche di vento nei temporali l'allerta meteo riguarda l'intero territorio regionale ad eccezione dell'Arta Irpinia Sannio e Tanagro e scade alle 12 di domani questa era la nostra ultima notizia vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Tg di RTC Quarta Rete 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 Grazie a tutti.